Settiva edizione Cardacruccia 2019, gli applausi sono tutti per lui, Michele Belluschi! Grande Michele resta qui e quando riprendi fiato vieni qui a fare due chiacchiere con noi, ma soprattutto resta perché Arturo ti vuole immortalare con anche tutto il podio! Michele ha fatto il vuoto, come dicevamo, io non ho guardato il tempo ma sicuramente dovrebbe essere il record della gara e poi chiedo supporto da questo punto di vista ad Omar! 51-18, mi confermi dovrebbe essere il record della manifestazione? Stavo cercando lo sguardo di qualche d'un altro e qui invece, qui in fondo allunghiamo lo sguardo perché sta per arrivare il secondo Andrea Secchiero, lo dicevamo, azzurro, più volte maglia azzurra nella disciplina del triathlon nella quale indossa la maglia delle gloriose fiamme oro e quest'oggi invece è qui a testarsi, come dicevamo, in previsione di domenica prossima prova dei campionati italiani di triathlon e anche Andrea ha preso un margine di vantaggio sul terzo classificato e quindi prepariamocelo! E qui sotto sta affrontando gli ultimi gradini e entrerai in piazza con il nostro supporto, il nostro applauso, il nostro calorosissimo applauso per questa seconda piazza Andrea Secchiero e là sotto invece il vincitore dell'edizione 2018 con lui chiudiamo il podio, restate qui Andrea e Michele a breve salgo su anch'io, il tempo di accogliere il nostro vincitore della passata edizione quest'oggi cede il titolo a due grandissimi anzi il titolo lo cede a Michele Belluschi e la seconda piazza al nostro Andrea Secchiero e prepariamoci ad accogliere anche lui quest'oggi in terza piazza, il portacolori eccolo qui della Pro Sesto Atletica mentre anche lui sulla piazza para vicino il test di quest'oggi, grandissimo Matteo Boniano Fai pure la foto Arturo e poi mi chiedo a tutti e tre di venire qui giù da me così intanto io accolgo anche le prossime posizioni un vuoto veramente importante quest'oggi io chiedo la conferma se sappiamo se sia il record o meno non è record mi dice Enea e da sotto invece sta per arrivare il quarto di quest'oggi Andrea venite qui Michele vincitore dell'edizione 2015 sta per arrivare prepariamoci anche ad accogliere anche lui venite qui potete passare tranquillamente un attimino che accogliamo la quarta piazza di quest'oggi nel 2015 l'abbiamo applaudito vincitore grandissimo Marco Gattoni Michele ho sbagliato io il record era leggermente più veloce di un minutino 50 e 24 il record quindi una cinquantina di secondi di il Repetto Emanuele nell'edizione 2017 com'è stata la tua prova quest'oggi? ma dai abbastanza bene anche perché non dovevo correre qui è la verità dovevo fare Fusio Nanzano però come se sia stata annullata quindi sono venuto qui sono un appassionato mi piace far la gara la domenica questa è la poca edizione ma è ben curata penso potrà diventare una classica un bel percorso una bella organizzazione complimenti a tutti e intanto con l'incitamento dei suoi compagni è arrivato anche Matteo Bosco in quinta posizione Andrea com'è andato il test? dicevamo campionato italiano domenica prossima dove? presentati e soprattutto presentaci le tue sensazioni odierne ma oggi comunque ho fatto un bel allenamento c'è la Michele che sta molto bene i primi 5 km sono stati insieme a lui poi non era un medio quindi allora ho mollato e sto cercato di rimanere tra il ritmo del mio medio per poter comunque far rattarmi i mesi 15 km non far troppa fatica anche se forse era bello ballonato e sì mi piace ho fatto un bel test settimana prossima sabato avrò il campionamento di Tietro Olimpico speriamo che vadano bene e bocca al lupo allora per il titolo italiano intanto è arrivato anche Matteo Raimondi uno dei nostri blogger più riconosciuti qui maglia dell'Atletica Pro Patria di Milano Pro Patria Buster Sizio scusatemi Giulio Palomieri quindi al traguardo e io se non vado errato siamo a 7 chiedo sempre il supporto qui della piazza perché fino a 5 ci arrivo a contare poi ho il microfono Arturo e non ho la seconda mano siamo a 7 no siamo a 6 8 quindi ne ho già perso uno quindi niente record ho sbagliato io ma di pochi secondi ma come ricordava Michele l'anno prossimo lo vedremo qui a Guerritissimo magari a cercare di raggiungere anzi di insegnare non solo il nome nell'album ma di cercare di portarsi a casa anche record altri due atleti là sotto lo ricordo le prime 10 piazze poi li vedremo alle premiazioni al cerimoniale di premiazione e quindi qui volate ragazzi là in fondo vi state giocando gli ultimi posti quindi volate qui lungo i gradini che portano in piazza Paravicino e ci siamo accogliamoli mi raccomando con il nostro calorosissimo incitamento qui una volata per la nona piazza e dietro maglie della guardate che volata atletica Casorate che cerca di rimontare per poter entrare nei primi 10 ci siamo quasi grande Paolo complimenti e quindi vittoria di Michele Belluschi davanti Andrea Secchiero e Matteo Vognolo e ricordiamo siamo in attesa di vedere invece chi sarà il nome al femminile che entrerà nell'albo d'oro di questa edizione maglia dell'atletica San Marco ricordiamo salutiamo anche loro uno dei gruppi più numerosi che vedremo poi al cerimoniale di premiazione e ricordiamo poi la loro mezza maratona in calendario quest'anno il 3 di novembre e qui un arrivo in volata per il portacolore dell'Arsa Gheese complimenti anche ad Alberto Albert One dietro di lui un grande Stefano Morigi e qui Stefano Frascoli non sei nemmeno sudato Stefano complimenti cussi sopra al traguardo 58 minuti sul cronografo e ricordo stiamo ancora aspettando la vincitrice per ora abbiamo una quindicina di uomini stiamo quindi qui curiosi di vedere chi sarà la prima delle donne di questa edizione 2019 un altro arrivo accolto dal nostro applauso sono dieci gradini quelli da qui da dove vi parlo io fino all'arco gonfiabile BCC ringraziamo anche gli amici della BCC banca che da sempre ci supporta ma oltre a quei dieci gradini ce ne sono almeno una cinquantina che stanno affrontando quest'altro i nostri due amici una volata sugli ultimi gradini per portarvi a casa la vostra cardalcrucca e a questo punto ti chiedo quant'è il record femminile non ce l'hai non volevo metterti in difficoltà ma ve lo dici l'anno prossimo e niente altri arrivi al maschile numerosissime 1324 i partecipanti sommando ovviamente tutte e tre le prove la 7.7 la 15 non competitiva e la 15 competitiva quest'anno gara Fidal 10354 il record al femminile di Elisa Migliorini che si aggiudicò l'edizione 2017 e siamo quindi a 1 ora e 30 secondi ancora tre minuti per vedere se il record al femminile resisterà o meno e sta per arrivare la prima donna e quindi prepariamoci ad accoglierla ci siamo quasi e prepariamoci quindi ad accoglierla e qui sotto oramai gli ultimi gradini in salita siamo oramai prossimi quindi il record oramai c'è perché 1 ora e 3 era il record e accogliamola con il nostro applauso il nostro eccitamento la vicitrice di questa edizione 2019 siamo quindi alla prima classificata è stato altri arrivi numerosissimi là in fondo capelli raccolti prepariamoci ad accogliere anche la seconda di questa di questo arrivo 2019 e li vedete là in fondo arrivare lungo la ciclabile del canale villoresi poi attraversare qui sul ponticello in cemento e affrontare poi questi 50 gradini che portano all'arrivo GS Miotti la maglia della nostra seconda di quest'oggi qui in piazza Paravicini Cargacrucca seconda piazza per la nostra Rosanna Urso e aspettiamo la terza non vi allontanate poi avremo piacere di parlare anche con il nostro podio al femminile e qui intanto arrivano volate su volate per la prova ovviamente al maschile e siamo oramai prossimi ad accogliere qui in piazza anche e quindi prepariamoci ad accogliere anche la terza di quest'oggi siamo agli ultimi gradini gli ultimi gradini sta per entrare in piazza la terza di quest'oggi eccola qui Serena Mattavelli Arturo le lascio a te per le foto e poi chiederei a Rosanna di avvicinarsi qui ed eccoci qui al traguardo è lei la terza in effetti perché Serena era fuori gara arriva Micola Nicol Caironi gli dicono Serena non era nella prova ufficiale quindi Nicol Caironi al cerimoniale di premiazioni poi la troveremo come terza nella prova, nella vera prova e l'invito a venire qua vicino siamo gli seregonesi ovviamente a tutte e tre ma anche a Serena anche se è fuori prova competitiva in modo di scambiare due parole con le nostre fortissime atlete e tutti voi invece Serena vieni qui, vieni pure qui attraversa pure passa di qui e intanto altri rive ragazzi anche la mia amica Nadia Nadia Guffanti al traguardo è il mio amico Dal Pozzo vieni qui Serena vieni qui Melissa scusami vieni qui vieni qui scambiamo due parole a presentarci questa prova ho detto ufficiosamente il record della gara ma stiamo controllando fa niente non è importante ma come hai trovato quest'oggi il percorso per te era la prima volta che ti vediamo qui alla carta croc no no l'ho fatta però sul percorso vecchio e oggi sei andata veramente fortissima il miglioramento eh siamo un'ora e uno alto ti posso dire contenta soddisfatta sì grazie soddisfatta ci vediamo allora poi dopo il cerimionale di premiazione e altri numerosissimi arrivi mi raccomando non è vietato applaudirli e eccola qui un'altra delle nostre miss Marta Dani al traguardo Omar chiedo sempre supporto quante donne siamo arrivate 5 o 6 faccio apposta per metterti in difficoltà e guardate qui si susseguono anzi si moltiplicano gli arrivi sempre più veloci e questi sono i peser del 4 e 30 quindi tutti i nostri arrivati andavano molto molto più veloci facciamo gli applausi anche a loro a questi ragazzi 4 e 30 al traguardo e guardate qui una volata sono anzi più volate su questi ultimi gradini che spaccano le gambe spaccano il fiato perché dopo 15 e passa chilometri è un arrivo spettacolare e difficoltoso allo stesso tempo ed eccoci qui un altro arrivo al femminile ricordo saranno 8 le donne premiate al cerimoniale di premiazione 10 le donne accogliamola con il nostro applauso e qui un altro arrivo l'amico Gornati è dietro di lui una porta colori dello sport VCO Fisiodelta società dello storico l'amico Severino Bernardini e dicevamo quindi più di 1300 i partecipanti a queste prove gli arrivi della 7.7 si stanno concludendo in zona partenza dove tutti quanti ci siamo ritrovati alle 9 e 45 5